Buonasera amici telespettatori, eccoci tornati a tutta di la seconda puntata di questo nuovo rotocalco calcistico di Antenna 2, nuovo lo dico ancora un paio di settimane e poi comincia a diventare vecchio anche lui come rotocalco calcistico. Comunque trattiamo il calcio di Serie D, il nostro girone B dove sono rappresentate quasi tutte le nostre formazioni, quelle del Milanese dove andiamo in onda, praticamente adesso Antenna 2 si può vedere in tutta la regione Lombardia, ovvio fari centrati sulle squadre Bergamasche e la Camunda del Brino, però abbiamo tante immagini, tanti servizi da lanciarvi e di settimana in settimana cresceremo con la nostra nuova trasmissione. Com'è a condurre la trasmissione Luca Carminati e Paolo Piccinelli, ciao Luca buonasera a tutti, ciao Paolo, 2-0 da Atalanta, ti va bene Luca? Arrivederci, Atalanta ha tanta roba stasera Paolo, esatto. E poi invece adesso torniamo con la Serie D, con i risultati di Serie D, e apriamo magari questa pagina con questi risultati, poi cominceremo anche con i temi della giornata, che finora non ho lanciato, la settimana prossima andremo anche con i temi della giornata. E la prima giornata si è aperta così, la settimana scorsa avevamo parlato tanto di Coppa, i primi turni per le squadre di Serie D, mentre ieri si è aperto proprio il campionato. L'Alconatese, Cavalte a Serenio 2-1, il Reno che pareggia Corea Alcalepina 1-1, Brucia Porto, Casatese 0-1, Desenzano sono a 3-0, Caronese Virtus a Cicerano Bergamo 0-1, Città di Varese Alcione Milano 3-1, Folgo Re Caratese 0-4 con Lumezzane, Ponte San Pietro Franciacorta 0-0 e Villa Valle Varesina 2-3. Subito un giro veloce, a cosa va sorpreso, a cosa ci stanno a te di conferme, anche se conferme la prima giornata, però... Ma io volevo chiedere a Paolo, pronti via Lumezzane 4-0? E avremo poi le immagini. Il biglietto da visita l'hanno presentato, il Lumezzane, il Città di Varese e il Desenzano. Erano le formazioni che erano attese come grandi protagonisti della stagione, l'unica che secondo me ha un po' steccato rispetto alle mie aspettative, il Franciacorta, mi aspettavo qualcosa di più a Ponte San Pietro. Per il resto, non dico che sia tutto ordinario e amministrazione, però ci può stare che magari il Brusa Porto possa giocarsela con la Casatese e magari non riuscire a fare punti. Anche Villa Valle e Varesino è una gara che comunque poteva essere aperta a diversi risultati. Però ecco, io dico, Città di Varese, Desenzano e Lumezzane hanno calato dei giolli molto importanti. Anche la vittoria della Virtus, la Carono per Tudella. Io penso che, dopo averle viste in Coppa, l'ho vista abbastanza... Ho visto una bella partita, sia anche del Brusa. Onestamente, tre punti che danno subito un bel ossigeno, anche per una partenza importante. In questo momento qua, come abbiamo sempre detto, Dani, che lavoriamo insieme, le prime 5-6 giornate, più fino in cascina metti, più cominci poi a trovare la quadra della squadra. E alla fine la Virtus Bergamo è partita bene. Anche, se non vado errato, domenica prossima, la Virtus Cisarano-Bergamo affronta il Città di Varese. Quindi è bene già aver messo in cascina tre punti. Ma già ieri, Paolo, anche perché poi pian piano si studieranno quelle squadre che non conosciamo. Ecco, questa è la prossima giornata, grazie a Felix, che ce l'hanno già mandato in onda. Queste saranno le partite della prossima giornata. E come dici, c'è Varesina-Breno. Varesina è una sorpresa. Poi vediamo nelle immagini il pressing che ha portato con il Villavalle. È stato impressionante del Varesina. E come ha detto Paolo, ci sarà proprio la partita fra Virtus Cisarano e Città di Varese. Non dico scontro a Vertice, perché tre punti tutte e due, però è un segnale di questa Virtus Cisarano. Vedere cosa potrà fare. Perché se porti a casa il risultato anche qua, dopo la quadrata, perché io ho già visto le immagini, bella quadrata a Virtus Cisarano e a Calono Pertusella, Vittoria anche meritata la formazione, dunque ha dato già un segnale importante delle nostre bergamasche, secondo me è quella che ha dato il segnale più importante. L'altra partita per me, grazie agli addetti stampa delle formazioni, quelle che non conosciamo bene, cioè che pian piano conosceremo, grazie anche a voi, agli addetti stampa, non solo per le immagini, ma anche per le considerazioni che ci girano, cioè dalle squadre nuove, dei milanesi soprattutto, dove l'Alcione, Città di Varesi-Alcione, era già una gran partita. Perché l'Alcione, noi dicevamo, ma non è un anno promosso, era un altro girono. Ma l'abbiamo un po' sottovalutata in fase di presentazione, non conoscendo questa squadra. Sappiamo che è sempre un gran settore giovanile l'Alcione, ma come prima è squadra. Vabbè, i nomi che ha in rosa sono sicuramente importanti, certo, partire col Città di Varese era oggettivamente un test molto probante. La sconfitta quindi, secondo me, non fa una piega e non credo che debba nemmeno ridimensionare le ambizioni che mi sembrano interessanti di questa società. Andiamo a vederci i gol, perché Paolo ha preparato la clip dei gol, qua saranno tutti i gol, poi nel secondo blocco, anche nel primo, andremo a vedere anche dei servizi, grazie a Paolo Zerbi, che avremo dei servizi proprio su due di queste partite, poi vedremo altre immagini e interviste. Questo è un gol meraviglioso, osservate il movimento che fa Ferrario, cioè da attaccante veramente di altissimo livello. Nonostante abbia 36 anni, ha una vitalità, una freschezza atletica e una fame ancora incredibile. Molti ragazzi dovrebbero imparare da lui. E qua siamo all'osso la di Varese. E qua vabbè, qui è un errore clamoroso del difensore che si lascia uccellare dall'arrivo dell'avversario. Stadio importante, l'osso la di Varese, per questo esordio, fra queste formazioni, che ho detto, dovrebbe essere già una partita importante di cartello. Sappiamo che l'Alcione ha fatto molto bene l'anno scorso nell'altro girone di Serie D. Quest'anno ha inserito anche giocatori importanti, ma quando ha in squadra uno che... Però io, Arnaldo, permettimi, io quando vedo questo gol, ok, Ferrario è bravissimo, è uno che se segna tanti gol è perché è anche bravo a cercarsi gli spazi. Però tu non puoi essere al limite dell'area piccola, liberissimo, con i marcatori che sono a un metro o due metri di distanza. Cioè è una cosa inaccettabile. Di gol così ne abbiamo visti tanti anche in altre partite. Perché? Perché secondo voi? Io so che alcuni allenatori preferiscono, diciamo, neanche la marcatura uomo, ma preferiscono disporsi a zona sui calci piazzati. Questa è una scelta che io francamente non ho mai capito. E un po' anche perché secondo me i ragazzi non vengono abituati alla marcatura e guardano sempre il pallone e non guardano l'avversario. Ferrario ha capito questo, infatti riesce sempre a smarcarsi puntualmente e a trovare gli spazi giusti per segnare. Carmi, tu chiedi di quel calcio dove il difensore marcava il 9, il 5 marcava il 9, il 3 marcava l'11, il 2 marcava il 5, tanto per dirti. E dove non c'era spazio e quando segnava il 9 era la colpa del 5, tanto per dirti. Oggi non sei più. Come ha detto Paolo, marcatura a zona che tante volte i difensori si trovano. Possono trovarci un attimino? Assolutamente sì, perché comunque la marcatura a zona, nella mia lunga esperienza calcistica, devi allenarla tantissimo. Non puoi improvvisarla con 4 allenamenti di mezz'ora, faccio la fase difensiva, la fase difensiva a zona, devi farla delle ore e ore. La sbagliano in Champions, la sbagliano in Serie A, la sbagliano in Ligano. A parte che la marcatura a zona, secondo me, non è che abbia molto senso. La marcatura, secondo me, è a uomo. Cioè, tu non puoi marcare a zona. Marcare a zona significa che comunque tu marchi una zona, ma non marchi l'avversario. Cioè, marchi chiunque vada in quella zona. Secondo me è una cosa folle. Intanto qua vediamo Bardelloni, che si sta allenando da una decina di giorni, perché si è infortunato durante l'estate, e ha la faccia di uno che non si sta allenando da tanto tempo. Ha fatto una doppietta importantissima, che fa morale, fa punti. Poi è bello anche il gol di Goglino, ex Breno in apertura. I giornali bresciani oggi hanno parlato molto bene di questo nuovo acquisto. Stai già dicendo nomi di gol importanti o gol con nomi importanti, Goglino, Bardelloni, Ferrari. Ma i bomber sono bomber. Cambiano casacca. Un bomber che purtroppo non sarà più in questo campionato è Ciro De Angelis, che è stato, come dire, chiacchierato molto in settimana, perché in effetti la sua partenza dal Franciacorta alla volta di Lodi, sponda fanfulla, è la notizia sicuramente di mercato della settimana per quanto riguarda la Serie D. Forse anche per questo motivo che il Franciacorta a Ponte San Pietro ha avuto un po' le polveri bagnate, come si dice. Anche questa, Paolo, doveva essere una partita al Conatese-Serenio, comunque una partita di squadra ambiziosa. Ha vinta l'Alconatese. Lo è stata. Da quello che vediamo, comunque una partita che si è risolta di misura, prendere un gol direttamente a farlo laterale è qualcosa che non si può vedere. E anche qua vediamo, insomma, errori, molti errori in fase difensiva, palloni che non vengono allontanati quando dovrebbero essere allontanati. Cioè io vedo veramente tantissime incertezze. Per cui se tu hai un giocatore che sa sfruttare le incertezze degli altri, hai già, non dico la vittoria in tasca, ma quasi. Beh, siamo alla prima giornata, però è un campionato da studiare, è un campionato comunque sempre da stare attenti, perché noi abbiamo detto probabilmente sarà un campionato molto equilibrato dove nessuno prenderà il largo o dove tutte queste formazioni. Però, attenzione, perché abbiamo già fatto dei nomi importanti, se prendono il largo alcune squadre poi andare a ciuffarle, tipo Città di Varese. Ma prenderanno il largo, secondo me. Cioè è inutile farsi illusioni. Città di Varese... Ma prenderanno il largo? Io ti dico una, eh. Sono destina. Fin quando sono in tre o quattro? No, non credo che una squadra prenderà il largo, perché ci sono, secondo me, almeno tre squadre più o meno sullo stesso livello che si daranno battaglia fino alla fine. Questi sono i gol, invece, del Tassara di Breno. E poi andiamo a rivederli, eh. Ma sono un gol... Andiamo a vedere anche lei l'Aizzo. Ma io quando vedo Gerardi che prende... che prende... no, Ghiilà, che prende sei e mezzo in pagella, secondo me è un errore suo questo. Carmi... Anche qua, marcatura zona, se ne sentiamo a guardare bene. Questo è un errore gravissimo. Cioè... Si è ritrovato un po' costretto a rimetterla lì? No. Ha fatto una parata scoordinata. La poteva trattenere o mandare da tutta l'altra parte? Ha fatto una parata molto scoordinata e alla fine si è trovato a fare una respinta goffa e siete stato punito. Certo che dall'interno ti aspetti certi errori. Questa è la mia idea. Dopo ha fatto una parata importante? Sì, ma non serve a niente. Quando tu non devi prendere questi gol, poi la parata è importante se la fai, sei bravo. Ma tu devi fare... La cosa che mi hanno sempre insegnato da quando ho cominciato a fare il portiere è tu fai il tuo, poi la cosa in più è una cosa in più che viene fatta. Ma tu devi fare il tuo. Il tuo vuol dire fare l'ordinario. Cioè, capito? Se ti voglio dire se tu non fai l'ordinario che il gol che ha subito era una cosa molto ordinaria a quel punto qua si può fare il miracolo alla Magnan però Magnan ha fatto anche l'ordinario bene. Non solo il miracolo. Questo è il paragone che ti faccio di logica. Anche perché Gherardi in serie D è un portiere importante. Gherardi è sempre stato... Gherardi è un portiere che ha esperienza è un portiere che comunque ha delle qualità importanti e per quello che ti dico si può anche dire che ha sbagliato. Cioè, non è che ci stiamo dicendo che non è capace. Ha commesso un errore come come... Io ho in un'altra emittente ho detto che ha commesso l'errore Andano vince sul gol di Giroud. Cioè, gli errori si commettono. Questa è la mia spassionata opinione. È chiaro che da certi portieri di categoria... Questo è il gol di vantaggio a Vito Sciglia? Io penso, Carmi, che tu questo l'avresti preso. Dai, ma anche questo. Eh, Carmi, quello che dicevo prima. Io vedo un sacco di... Però ragazzi, stiamo parlando di un sintetico, una palla che picchia per terra prima di... Il portiere si è mosso quando la palla era abbondantemente partita. Probabilmente era piantato in terra. Allora, bravo. O è sorpreso perché un portiere di questo livello non può prendere questo gol qua. O è sorpreso o è proprio un errore del suo tecnico. Anche qua un errore del difensore e qui la Casatese realizza il gol della vittura. Era un disimpegno di difensore che ha fatto partire la Casatese contro Piero. Una partita molto equilibrata dove più supporto non meritava di perdere però si è partito con l'handicap. Stiamo parlando appunto e abbiamo visto anche altri gol. Poco prima del gol del Ciserano abbiamo visto Villa, Valle e Varegina. Io poi avremo anche le immagini e anche un servizio anzi di Paolo Zerbi su questa partita e noi due di queste squadre Breno che hai detto prima e Villa, Valle le abbiamo viste proprio in Coppa. Non ce le erano piaciute e si sono confermate che onestamente non sono in condizione neanche ancora. Sì. Diciamolo così. Vedendo anche soltanto i gol di Villa, Valle e Varesina io ho visto ancora molte incertezze. Valle è persa in uscita. Ha approfittato anche di certi errori in fase di disimpegno. Quanto al Breno io credo che il Breno debba mordersi le mani perché ieri nel primo tempo aveva l'occasione secondo me per chiuderla subito questa partita anche perché la Real Calepina secondo me è una squadra che è vero che leggevo che mancavano tanti giocatori però è una squadra che fa un calcio d'anni 80 cioè il peggior calcio che si possa vedere da un punto di vista della mentalità. Palla lunga nessun ragionatore a metà campo contropiede poco fraseggio e poi si difendono anche abbastanza ordinati però se vuoi salvarti devi fare qualcosa in più. Il Breno secondo me aveva la tecnica e le qualità per fare bene purtroppo non è riuscita a portare e poi qui andiamo a parlare perché con l'Ialice andremo a commentare tu che hai seguito la partita Capelli sulla panchina della Calepina Paolo è andato piuttosto pesantino sul calcio di Capelli che la prima giornata aspettiamo un calcio però dobbiamo ricordare però dobbiamo ricordare a tutti i telespettatori o anche i dirigenti che noi da studio opinioniamo la partita non opinioniamo il campionato cioè lui Paolo ieri l'ha visto a 90 minuti non ha visto l'Ialice ha parlato della partita di ieri giocata a palla lunga non ha detto che era Calepina ma non devi mica difendermi no 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 ti difendo ma ti difendo perché dagli anni che faccio l'opinionista che sono veramente 20 quasi 20 ti posso garantire che se magari il dirigente o questo dice sì ma questo ha detto che noi giochiamo da calcio io dico sempre che noi opinioniamo sempre la domenica la domenica che abbiamo visto la domenica che abbiamo letto la domenica che abbiamo sentito ribadisco Cammi non c'è bisogno ma io lo faccio perché comunque abbiamo qui vicino dirigenti che capiscono Papa Focaccia e alla fine bisogna spiegargli probabilmente il dettaglio tecnico perché probabilmente a volte fare il dirigente non è una passeggiata ma bisogna essere anche competenti questa è la mia idea ma anche perché comunque le opinioni sono diverse il bello delle opinioni sono diverse poi a fine al campionato quando si tira le somme non abbiamo mai sbagliato di tanto esatto quando tiravamo le somme a fine al campionato non è che vinceva il campionato una che dicevamo che retrocedeva o al contrario se a tutta di fosse un concorso di simpatia veniamo eliminati al primo turno domani mattina non passiamo l'eliminatore manca tempi supplementari ecco quella ormai tutta di è nuova dunque esatto deve avere le spalle più larghe un obiettivo un altro quindi per carità qua siamo in serie di una categoria sicuramente più alta ma andiamo a vedere soprattutto si commenta tanto si può come ne parleremo di più dopo commentare quando si è visto 90 minuti la partita perché negli highlights tante volte sai ti può ingannare la partita come è stata giocata ma anche la lettura dei giornali io vado sempre molto cauto perché i giornalisti ognuno giustamente vede la partita a modo proprio e quindi devo dire che condivido molto l'analisi fatta dal Brescia oggi dal giornalista del Brescia oggi però altre volte invece dico che partita ha visto quello per cui è meglio sempre commentare una cosa che si vede che era Breno a Real Calepina le squadre bergamasche abbiamo detto Carmi sono partite così e così la Vito Ciserano ha fatto il suo anzi ha fatto bene il suo vincendo Carlo Pertusella dando segno di solidità le altre Ponte va bene abbastanza bene con Franciacorta Villa è caduto il Brusa è caduto vediamo la cosa positiva la cosa positiva delle sconfitte comunque il Villa due gol è riuscito a fare una grandissima squadra il Brusa di Filippo ha perso di misura su un errore tecnico ed è stato punito le prime partite sono comunque un non capire come sta la squadra la cosa positiva che posso dirti io in difesa comunque della brutta sconfitta subita in casa di Villa Valli che comunque magari ha tutto due due pere però ha giocato una neopromossa dopo il Valesina io nelle immagini mi ha impressionato perché è un pressing altissimo non ti lasciano ragionare dunque tanto di capello la formazione Valesina ma ne torniamo a parlare dopo la pubblicità perché adesso ci fermiamo per il primo blocco ne torniamo a parlare anche perché partiremo lì tanto con i servizi sentiremo anche le battute veloci finali dei mister e andremo a commentare anche su quello la nostra trasmissione è fatta così il primo blocco dedicato ai commenti dei risultati e agli highlight del gol e poi il secondo blocco dedicato a chi era sul campo di lavoro pubblicità e torniamo con il nostro a tutta di cominciamo a vedere il calcio che ha giocato cominciamo a vedere i gol anche se abbiamo visti tutti i gol di questo girone insomma lasciateci un po' di lustro grazie anche a Paolo Picinieri siamo una trasmissione e poi c'è chi lavora dietro che prepara tutti i gol perché vedere i gol di alcune partite adesso lo facciamo nel secondo blocco e poi vedere tutti quelli del girone insomma è tanta roba secondo me penso che faccia piacere anche a casa quello che piace più a noi è che la trasmissione piaccia a casa e venga accolta a casa e sia frizzante come facciamo adesso nel secondo blocco io partirei abbiamo chiamato un caso proprio una formazione bergamasca anzi due formazioni bergamasca abbiamo due servizi grazie a Paolo Zerbi che è un sito che potete vedere il calcio sul sito web soprattutto il calcio milanese ma anche questo girone paolozerbi.com è un sito che consiglio esatto abbiamo questa collaborazione lui ci concede di prendere questi servizi andiamo proprio a pescare io partirei da Caronese Virtus Ciserano insieme a Felice pronto il servizio e andiamo a averci questo bel servizio fatto sulla vittoria della Virtus Ciserano Bergamo primo impegno di campionato per la Caronese di Simone Moretti avversaria la Virtus Ciserano Bergamo che lo scorso anno diede un dispiacere in Coppa Italia in Rosso Blu squadre però profondamente rinnovate rispetto all'anno scorso e ospiti che partono col piglio giusto con un corner pericoloso che attraversa tutta l'area di rigore dall'altra parte si vede la Caronese con un cross di Gilles Duguet si salva Moioli sul secondo palo e poi tutta la difesa bergamasca buoni spunti come il passaggio di Cosentino per il taglio di Achenza ma il portiere della Virtus legge bene mentre gli ospiti sono pericolosi col colpo di testa di Nessi da corner la chance più importante per la Caronese però è sui piedi di Marco Gaeta ma l'attaccante in diagonale non riesce ad angolare il pallone in casa Virtus invece pericolosi soprattutto i centrocampisti prima il destro secco di Juari poi Samuele careccia con una conclusione da fuori area in entrambi i casi ottima la chiusura della difesa di casa con Angelina sempre attento a respingere la situazione la squadra di Del Prato cresce d'intensità con il passare dei minuti si fa vedere anche Belloli che rientra guadagna il centro del campo carica il destro Angelina respinge sul finale si rivede la Caronese destro di Duguet alato non di molto con il classico pallone che fa la barba al palo prima del riposo però è ancora provvidenziale Angelina su Juari salvando il risultato sul sinistro del centrocampista della Virtus ripresa e la squadra di Ivan Del Prato è molto più incisiva nei primi minuti salvataggio sulla linea di Galletti su colpo di testa di Bertoli il numero 9 si presenta poi a tu per tu con Angelina dopo una bella triangolazione degli attaccanti ospiti ma il portiere della Caronese ancora una volta salva il gol però è nell'aria dopo un colpo di testa al lato di Panatti il numero 10 lascia la sfera a Belloli che da fuori area trova il mancino chirurgico che sorprende Angelina 0 a 1 partita sbloccata con merito da parte dei giocatori bergamaschi al minuto numero 13 della ripresa a braccio collettivo per il numero 11 in maglia blu la reazione della Caronese nella punizione di Vingiano alato non di molto dopo che il centrocampista si era conquistato proprio il piazzato e poi nel tiro di Vai che dopo pochi minuti dal suo ingresso si rende subito pericoloso al quarantesimo episodio contestato da parte della Caronese palla lavorata in area di rigore Tunesi viene steso poi Vingiano trova il gol ma l'arbitro ferma tutto per simulazione di Tunesi punendo il numero 20 col cartellino giallo incredulità e rabbia mentre la Virtus prova a chiuderla col colpo di testa di Viscardi che però finisce a lato nel finale ci prova la Caronese con un mini forcing colpo di testa di Galletti a lato e soprattutto destro di Cosentino con il numero 3 che prova questa conclusione ma il risultato non cambia più e i padroni di casa masticano Amaro passa alla Virtus Luca allora abbiamo visto una Virtus fino al gol dell'1-0 dominare se vogliamo la Virtus Cicerano portare a casa questa partita meditatamente poi forse si è contentata dell'1-0 ha sofferto qualcosa nel finale con l'episodio nel finale che ha fermato il gioco per una simulazione un po' strano allora è una partita strana a parte che è un ottimo servizio diciamo che ha fatto ha fatto un servizio spettacolare proprio ha preso tutto e di questa partita il meglio diciamo che il portiere era il migliore in campo fino al gol che incredibilmente ha subito un gol non dalla sua prestazione parto proprio dall'unica cosa negativa che ho visto da Angelina la Virtus secondo me ha portato a casa tre punti importanti contro una buona squadra comunque la ha dimostrato di avere qualità importanti ha sfidato 4-5 volte il gol proprio a fil di palo ha giocato una partita alla pari e ti posso dire onestamente che l'arbitro lì è stato bravo perché anche io l'avrei munito per simulazione perché tutti i due giocatori della Virtus vengono sulla palla e lui bravissimo a tuffarsi ai talcamenti in piscina e a cercare di tirare inganno l'arbitro sfortuna vuole che l'arbitro era messo benissimo e quindi ha portato l'ammunizione per simulazione e in quel momento lì aveva già fiscato poi l'altro ha fatto gol ma ormai era tutto sospeso diciamo che sono due ottime squadre abbiamo visto un ottimo servizio Paolo però abbiamo visto due ottime squadre andiamo a venerci prima il gol del Lumezzane andiamo subito col Breno l'altro servizio lo lasceremo verso la chiusura andiamo a venerci i quattro anzi gli highlights del Lumezzane oltre ai quattro gol tanto Lumezzane un paio di volte mi sembra ho visto la folgore cara tesa affacciarsi verso la zona della difesa del Lumezzane tanto è vero che Franzini dice praticamente non abbiamo sofferto quasi nulla il nostro portiere non ha mai dovuto intervenire ecco qua e questo vedete subito maglia scura Lumezzane suona strano il fatto che il primo tempo si è chiuso 0-0 però poi ovviamente dopo se sbagli questi gol sì sì ma poi la superiorità del Lumezzane era destino che venisse fuori ecco a me cioè io non sono tanto meravigliato di questo risultato perché secondo me i valori sono comunque notevoli è questa folgore cara tese che davvero se mettiamo insieme tutto il precampionato la gara di Coppa è questa cioè una squadra che subisce tantissimo fa fatica a segnare sembra davvero come dire un pesce fuori dall'acqua rispetto alla categoria non è più quella degli altri anni sappiamo a livello societario è cambiato tanto ho capito però quando in panchina prendi Giuliano Melosi Giuliano Melosi è una garanzia cioè non stiamo parlando di un esordiente in panchina che potrebbe pagare Dazio stiamo parlando di un allenatore molto esperto spero che riesca spero per lui che riesca a trovare un po' di contromisura perché di questo passo diventa molto molto dura e qui stiamo vedendo sempre delle azioni poi arriveranno i gol uno dietro l'altro praticamente questo Lumezzane nel secondo tempo questo deve essere il primo gol palla dentro l'uomo da solo e comincia parla vicini uno dei nuovi acquisti era già un paio di volte che arrivavano con l'uomo da solo davanti alla porta e li sbagliavano questa volta poi fatto il primo sono arrivati anche tutti gli altri d'altra parte Lumezzane ha soltanto l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli attaccanti poi questo è l'altro gol di Pesce la palla messa là non so quanto voluto però Pesce è uno che ogni tanto colpi come questi li ha tirati fuori anche in eccellenza l'anno scorso nomi importanti certo era l'esordio per i Lumezzane squadra importantissima avevano anche da farsi perdonare l'eliminazione dalla Coppa che insomma sicuramente in Valtrompia è un po' bruciata dopo vediamo tanta velocità si affaccia forse una volta o due alla fine della fiera caratese la forgole in queste circostanze questi sono i pericoli della forgole caratese verso la porta dei Lumezzane e poi arriverà il 3-0 sembravano vedere un po' questi i Lai sembrano due squadre di categorie diverse è stata una partita completamente fra due squadre diverse una che lotterà sappiamo conferma probabilmente fino all'ancima questo poi se subisci questo gol Carmi te lo lascio a te perché ragazzi miei cioè non me la sento di commentare questo gol io col mio ginocchio l'avrei già mandato all'ospedale l'attaccante della Lumezzane manca anche un po' di malizia almeno quella devi averla se non hai la tecnica devi metterla quantomeno sulla malizia cercando anche di essere magari scorretto però lo fai prodomo tua e questo è poi il quarto gol del Lumezzane magari saltiamo l'intervista Franzini perché non diciamo coi tempi andrei allora sulle immagini del Breno andrei su Breno Real Calepina questo 1-1 Paolo a te un commento mentre vediamo questi highlights hai già cominciato a commentare prima ma adesso sì ho commentato quello che ho visto della Real Calepina squadra che ero curioso di vedere perché volevo capire quali potevano essere le reali potenzialità visti i primi a 45 minuti mi sono detto il Breno se non vince 3-4-0 questa partita c'è da veramente da preoccuparsi perché con Nappello con il numero 10 regista alto con San Pietro regista basso dai loro piedi passavano tutti i palloni quindi una squadra che mi piaceva molto da questo punto di vista mi è mancato evidentemente quella cattiveria da davanti perché con Faronieri e Righetti sono una coppia secondo me non ben assortita dialogano poco tra di loro hanno concesso questo contropiede per uno svarione diciamo difensivo però la Real Calepina mi ha veramente impressionato in senso negativo nel primo tempo sembrava di vedere una squadra degli anni 70 degli anni 80 un calcio bruttissimo che oltretutto non paga perché quando alla fine del primo tempo sei sotto 1-0 vuol dire che la tua strategia non ha pagato in maniera incomprensibile dopo il primo quarto d'ora della ripresa il Breno è calato vistosamente ha concesso campo all'avversario che ovviamente se l'è preso questo campo e ha cominciato non con un gioco briosissimo però ha cominciato a farsi vedere dalle parti di Ansaldi realizzando il gol del pareggio anche qua se lo andiamo a rivedere anzi lo vedremo a breve i due difensori che si fanno uccellare cioè bravo il giocatore eccolo qua questo cross bellissimo per carità il giocatore si inserisce tra due giocatori del Breno il primo non salta il secondo in ritardo cioè un gol del genere per una squadra come il Breno io francamente non me lo sarei mai aspettato poi come tu ben sai può arrivare un po' di nervosismo possono arrivare anche delle incertezze delle paure però la partita di fatto lì mi sembra fosse finita le due squadre non avevano più grandi occasioni e poi adesso sentiremo le parole di Soave qua la partita è finita proprio andiamo a sentire comunque due punti buttati da parte del Breno andiamo a sentire Soave invece come l'ha vista lui Soave veloce l'intervista al mister del Breno una partita che è difficile come sapevamo abbiamo trovato una squadra molto chiusa che giocava sostanzialmente su questa prima punta il nove che ci ha comunque messo in difficoltà peccato peccato perché comunque abbiamo fatto delle buone cose nel primo tempo il finale del primo tempo secondo me l'abbiamo gestita un po' così così invece molto bene secondo me i primi 20 minuti del secondo tempo dove meritavamo sicuramente il raddoppio dove però non abbiamo avuto la forza di farlo abbiamo sbagliato qualche situazione e dopo l'occasione ho sbagliato di Boldini dopo un minuto abbiamo perso il gol sulla nostra ingenuità peccato perché insomma non abbiamo concesso grandi robe ma in questo campionato dove l'equilibrio la fa da padrona e il dettaglio fa la differenza e noi su quello siamo stati un po' un po' disattenti insomma c'è un po' di ramarico perché insomma penso che avremmo meritato sicuramente qualcosa in più di loro ma è comunque un punto siamo l'esordio c'è da lavorare tutte le squadre non sono a regime anche noi e quindi avanti con la prossima Andiamo subito a verci un altro servizio sempre creato da Paolo Zerbi e quello del Villavalle che perde il caso col Varesina andiamo subito a vedere proprio servizio sempre curato da Paolo Zerbi Villavalle-Varesina Per il nuovo debutto in Serie D della Varesina c'è il Villavalle di Amedeo Mangone sul sintetico di Villa Dalmele e le fenici ritrovano Capitan Poesio e partono fortissimo mettendo alle corde i padroni di casa con tutta la qualità della propria rosa i dribbling di Ioreiana mandano in tilt la difesa di casa al 10 va via sul mancino e cerca il colpo da biliardo Rota riesce a rispingere Poesio sul tap-in colpisce una clamorosa traversa siamo al minuto 8 passano 5 giri d'orologio arriva il vantaggio Pozzi anticipa e strappa bordata dai 25 metri che lascia Rota di ghiaccio ed è l'esterno 2003 in prestito dall'Inter il primo gol stagionale per la squadra di Marco Spilli il Villavalle non ha reazione e 4 minuti dopo subisce anche il 2-0 travolgente azione di Gasparri sulla sinistra che con un misto di qualità caparbietà e anche un pizzico di fortuna passa a sinistra guizzo in area di rigore e meraviglia sul palo lungo per il raddoppio Varesina padrona del campo e della situazione ci vuole tutta la forza di Perrotti per ridare anima al Villavalle e segnare il gol dell'1-2 al minuto 21 azione un po' estemporanea dei padroni di casa ma sempre il numero 8 dei padroni di casa vive 5 minuti incontenibili e dopo il gol va vicino al pareggio con un destro alto sopra la traversa di Spada Vecchia la Varesina però non subisce il colpo e dimostra tutta la sua lucidità con uscite di bella fattura e verticalizzazioni improvvise qui Tempestivo Rota evita i guai sullo scatto di Yekuban guai solo rimandati però perché verso la mezz'ora si accende Orellana che strappa centrocampo e parte la prima serie di dribbling non va a buon fine la finta di corpo con cui manda fuori giri due difensori però è da applausi la stoccata col mancino sul primo palo manda la Varesina in estasi per il 3-1 alla mezz'ora e sulla tribuna rosso-blu occhi che luccicano per il talento di Orellana la difesa della Varesina respinge ogni assalto e così ci vogliono i piazzati per provare a far male per Rotti però non inquadra la porta di poco nel finale di tempo è ancora Orellana smarcato dal lavoro di sponda di Yekuban a trovare spazio per il sinistro fuori misura un primo tempo Ricco termina lasciando il posto una ripresa meno viva a livello di occasioni ma comunque emozionante il 2002 colferà i sale di rendimento e prova a calciare il bomber Castelli entrato sull'inizio ripresa pennella sopra la barriera e per Spadavecchia nulla da fare 2-3 su calcio piazzato nonostante questo la Varesina guidata da un Gregov sontuoso in difesa sembra avere il controllo della situazione il colosso croato si vede anche in avanti con un'azione di sfondamento Gaspar rimette dentro il pallone Orellana lo stesso Gregov il tiro al volo di Yekuban però non trovano fortuna per un gol che avrebbe sicuramente chiuso la partita il Villavalle è ancora tutto nel talento di Colferai ma ci vuole ben altro per far male a Spadavecchia e così la Varesina dopo l'occasione col tiro a giro di Pino di poco alato conduce in porto senza fanno ulteriori una gara dedicata a proprio Mr. Spilli anno Varesina batte Villa Valle 3 a 2 non abbiamo spazio di commentare per vedere i gol questa è stata la sagra degli errori adesso vediamoci il gol di Bruso Porto casatese abbiamo un minutino per vedereci questo gol Roby lo manderemo la prossima volta anche perché per perfezionare l'intervista ma ecco quali immagini di Bruso Porto casatese in questo minutino che andiamo a commentare Carmela già detta prima comunque il Brusa visto anche in Coppa contro la Vizio Cesarano bella squadra quadrata ha avuto le sue occasioni non ha saputo sfruttare poi come ha detto Paolo già all'inizio quell'errore su palla in uscita ha deciso praticamente la partita a favore della formazione della casatese ma prima c'è stato un buon Brusa che ha espresso bene ricordiamo tanto nuovo la formazione allenata da Carobbio ma sia con la Vittus Bergamo sia oggi sul piano gioco non ha demeritato sì è vero io anche vedendo un po' di highlights una gara molto equilibrata certo noi siamo stati abituati l'anno scorso a vedere un Brusa Porto che in casa vinceva facilmente le partite aveva un attaccante che era fenomenale eh lì lì manca hai detto mancano i 25 gol io ho paura che bravo è un giocatore che non puoi facilmente sostituire anche Galelli che magari non era un bomber ma era un uomo che comunque lavorava molto per i ori anche quest'anno manca questo non per dire che adesso il Brusa Porto dovrà faticare però sono quelle partite in cui ti rendi conto che certe assenze e certe mancanze possono pesare particolarmente sì perché il bomber magari te la decide c'è partite con bloccate magari quelle su 0-0 l'anno scorso avevano magari i ori che era terminante l'anno prima c'era l'altro attaccante determinanti che te la sbloccano e poi la porti a casa e questa volta invece non sei riuscito a sbloccarla e alla fine sono stati gli altri che un piccolo errore al centro campo gli ha detto palle diciamo anche che la casa tese non è proprio una squadra di scappati di casa cioè una squadra che nello scorso ha fatto benissimo ha cambiato molto quest'estate perché Giorgio Recino che era l'attaccante diciamo più importante è nato a Crema ecco questo è uno dei tanti motivi che abbiamo apprezzato in questa giornata tanti tanti errori però a fronte di un errore è perché c'è qualcuno che evidentemente lo sa sfruttare quindi demeriti e meriti ancora una volta fanno la differenza poi ci prova ancora Brugia per ratizzarla nelle finale sicuramente un 1-1 sarebbe stato il risultato più giusto ma il calcio è così chi l'ha avuta dentro porta a casa la partita e qua finisce la nostra trasmissione di tutto di la nostra seconda puntata è questo pian piano miglioreremo e porteremo la casa comunque vedete i servizi li abbiamo commenti in studio abbiamo voluto dedicare questo spazio a tutta di e vogliamo dedicarlo tutto l'anno alla nostra sede al nostro girone B grazie a chi ha lavorato con noi chi ha detti stampa le varie informazioni che garantiscono le immagini a chi le cura e grazie a Luca Carminati e Paolo con me in a tutta di grazie a te buonasera adesso fra poco ci vedremo con tempi supplementari sigla finale